Io auguro agli Aram comunque di seguire le orme di Lionel Lewis, quindi non perdersi adesso da tutta questa concentrazione su di loro per poi, non so, non far più niente. Auguro a loro veramente di lavorare tanto e andare avanti con questo progetto. Io sono fiero poi anche perché gli Aram, oltre ad essere i brani musicisti, sono anche i miei ottimi amici, siamo diventati, quindi sono felice per loro e penso anche che sia una novità. Sono belli da vedere come immagine e il repertorio che hanno presentato qui a Disfato.